In questa fase bisognerà comunque rispettare la distanza di un metro e anche raccomandiamo di portare sempre con sé la mascherina, che peraltro va indossata obbligatoriamente in alcuni specifici luoghi e in ogni caso raccomandiamo sempre di indossarla al chiuso o anche all'aperto nell'eventualità. Immaginate una strada particolarmente affollata in cui vi sia il rischio o l'impossibilità di rispettare le distanze.